Scafatti è una squadra in continuo divenire, nel senso che è difficile tracciarne un identikit o un profilo. Ha avuto per quattro settimane quattro partite fuori Naimi, altre due non le hanno giocate. Oggi Naimi, il 23 anzi è rientrato, quindi oggi è di fatto nuovamente saldamente in cabina di regia di questa squadra, è un giocatore che può cambiare il volto alla squadra sicuramente. C'era Chase Fischer che se n'è andato invece prima di Natale, nella finestra di mercato di gennaio arriverà Dobbins, quindi oggettivamente è una squadra che è continuamente in un regime di cambiamento, di adeguamento, di equilibrio. Quindi sarà anche difficile tracciarne un quadro ben preciso. Abbiamo delle idee, cerchiamo di lavorare tutta la settimana, abbiamo cercato di lavorare sulle caratteristiche dei singoli, su quelle che sono le situazioni maggiormente proposte in chiave offensiva e difensiva da loro, ma sappiamo che dovremmo essere pronti e agili sotto questo profilo tattico perché potrebbe esserci qualcosa di nuovo e di diverso che non ci aspettiamo, che non conosciamo proprio per questo continuo cambiamento, che hanno cambiato tre allenatori dall'inizio dell'anno, quindi insomma anche se per di Chizio ormai è da un po' di tempo che è sulla panchina di Scafati, però insomma è una squadra che ha avuto un travaglio notevole, è chiaro che la partita con Reggio Calabria vinta comodamente sia sotto profilo del risultato che del gioco, ci dà l'idea di uno Scafati in crescita e comunque in uno stato di salute migliore di quello che la classifica in questo momento dice. Ma sicuramente giriamo contro una squadra che ha una battaglia di lunghi molto più pesante della nostra, perché diciamo che forse sono 4-5 lunghi che sono più tendenti a 5 che al 4 e sarà una partita sicuramente dura dal punto di vista fisico, in aria, con contatti, una partita dispendiosa da questo punto di vista, una partita muscolare perché loro fanno di questo a loro armi, soprattutto Fantoni, Baldassar, Amannato, Linton Johnson non lo conosco, quindi non ci ho mai giocato contro perché lui è sempre in Serie A, quindi non ti saprei dire. Sarà sicuramente una partita fisica che noi dobbiamo affrontare con il giusto atteggiamento perché se no rischiamo di fare brutta figura. Io quando sono venuto qua, come ha detto Franco prima, sono venuto per determinate cose e sicuramente un aspetto era questo, l'esperienza, il temperamento, sicuramente è quello che mi è stato chiesto, è quello che cerco di dare e spero che sia alla fine molto importante. Mi aspetterei sinceramente di non dover dopo 5 anni e mezzo ancora rivolgere un'esortazione. Io credo che all'inizio dell'anno forse di un appello ci fosse bisogno per il fatto che non riuscivamo noi sul campo a essere trascinanti o coinvolgenti o a dare onestamente particolari soddisfazioni, anche se comunque in casa, anche giocando non benissimo, tranne la partita con Siena, avevamo sempre vinto ma non c'era questa continuità di risultati, perdevamo fuori, perdevamo anche magari a volte in modo netto fuori, quindi non c'era. Oggi che abbiamo ripreso a essere noi stessi e che arriviamo da quattro vittorie consecutive, ci giochiamo la possibilità di fare per la quinta volta in sei anni le finali di Coppa Italia ed è, insomma, io vorrei che la gente andasse a ricercare un po' quali altre società hanno fatto per cinque anni su sei le finali di Coppa Italia. Al di là che ne abbiamo vinta una sola, però voglio dire, il fatto di esserci mi sembra una cosa estremamente gratificante anche per noi, ma anche credo per la città, per cui oggi è un momento determinante della stagione, un momento in cui possiamo dare continuità, un momento in cui possiamo chiudere la stagione regolare nelle prime quattro, ci possiamo qualificare per l'ennesima volta la Kermes della Coppa Italia, in quest'anno sarà a Bologna, e quindi diciamo in Basket City, per cui portare a Grigento l'immagine della città e di quant'altro in una situazione così importante credo sia un obiettivo da condividere tutti insieme, per cui mi auguro che ci sia questo tipo di entusiasmo, questo tipo di attaccamento. Quello che riusciremo a ottenere resterà nella storia di a Grigento, resterà per a Grigento, indipendentemente dal fatto che io, Innocenzo, Perrin o Piazza, prima o poi andremo via, quando sarà, sarà per chiunque il momento di andare via, ma quello che è stato fatto resterà per la città, per i nostri tifosi, quindi credo che debbano essere anche loro i primi attori di questo momento, se lo vorranno essere. Grazie. Grazie.